Buongiorno, Vincenzo Longo dalla Sala Operativa di G. Borse europee contrastate stamane in vista della riunione che ci sarà domani e dopodomani tra Donald Trump e Xi Jinping. Dopo la debolezza degli ultimi giorni, oggi la seduta sembra presentare volume in ripresa, con gli operatori che avranno a disposizione le prime cifre dal mondo del lavoro statunitense attraverso l'indicatore ADP che anticiperà il ben più importante report sui non-farm payrolls in agenda venerdì prossimo. Questa sera l'attenzione poi sarà rivolta ai verbali della Federal Reserve, dove gli operatori vorranno capire il tenore delle considerazioni fatte nella riunione di marzo in tema di bilancio e riacquisto bond in scadenza. Crediamo che sia questa una misura ancora lontana e potrebbe essere attuata solo dopo la riforma fiscale annunciata da Trump, elemento questo che permetterà alla stessa Fed di avere anche un quadro più chiaro sulle prossime aspettative inflattive. Tornando in Europa, il secondo dibattito di V tra i candidati all'Eliseo non ha proclamato vincitori, ma sembra aver indebolito un pochino la posizione della Le Pen. Sul mercato governativo non ci sono particolari evidenze di ciò, con gli operatori che rispondono per lo più ai movimenti che arrivano dai treasury, tornati a scendere ieri dopo i forti acquisti degli ultimi giorni. Tra le valute l'euro-dollar è stato poco sotto soglia 1,07, mentre la sterrina stamane è tornata a rafforzarsi dopo i cali degli ultimi giorni. Per oggi è tutto, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buona giornata e buon trading. Grazie a tutti.